Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video shopping. Prima di farvi la sua data tutto, che ho visto che ha riscosso tantissimo successo, quindi non vedo l'ora di farvene un altro, ho già preparato tutte le vostre prenotazioni, volevo farvi vedere alcuni dei nuovi arrivi, perché ovviamente ci sono anche quelli, insomma, dentro, nuovi arrivi ovviamente scontati, ci sono anche quelli all'interno del negozio. Quindi partiamo subito, perché ho un sacco di cosine molto interessanti, già primaverili, diciamo, perché io mi sto già improntando per la primavera, però c'è ancora qualche pezzo anche invernale, quindi un po' di tutto e di più. Partiamo dal primo capo, che è questo meraviglioso tubino, che lo trovo veramente delizioso, costa 15,90 euro, super primaverile, colore rosso corallo, non è proprio un corallo, un rosso vivace, molto fresco ed estivo, quasi tendente all'aranciato, veramente, secondo me, bellissimo. E questo abito, appunto, costa 15,90 euro, è una taglia media ed è bellissimo, a parte il fatto che è un tessuto tipo felpa, quindi resta comunque un abito da giorno, nonostante sia comunque un tubino, quindi voi lo potete tranquillamente utilizzare durante il giorno senza essere troppo eleganti. Mettete questo, mettete una décolleté, oppure uno stivaletto, se lo volete rendere un po' più country, insomma, un po' più americano, tra virgolette, oppure una bella décolleté, non si sbaglia mai. Con il vostro trench sopra, oppure se è piena estate, con degli accessori dorati meravigliosi, secondo me è bellissimo. La lunghezza è mini, arriva sotto il ginocchio e ha un bellissimo gioco di contrapposizioni di... non so come spiegarvi, insomma, vedete questa cosa qui, c'è questa cosa qua, è una cosa fighissima e addosso sta benissimo, perché vi, non so come dire, vi stegna proprio la pelle, vedo non vedo, è molto sexy, secondo me, tipo a me, che ho una rosa tatuata proprio sulla parte qua, sarebbe perfetto per me, insomma. Però, ovviamente lo propongo a voi, dietro, tra l'altro, resta così, ho sempre capito un attimo a capire che cosa fosse questa cosa, quindi se fate anche una coda di cavallo, secondo me, è veramente molto sexy, ma allo stesso tempo elegante, discreto, perfetto, perfetto. La parola giusta è perfetto. 15,90€ è il costo. Lo abbinerei tantissimo con degli accessori dorati, ce lo vedo molto bene, proprio con degli orecchini pendenti, con una bella collanina, oppure orecchini più sobri e una collanina, insomma, sapete, va, non devo staccarti. Poi vi faccio vedere un cappottino, questo è un cappottino vintage di Mazzonetto, non so se lo conoscete, è questo brand, qui da noi andava tantissimo, tantissimi anni fa. Questo è un cappottino, costa 18,90€, taglia 42,44€, grigio, bellissimo, con la cinturina incorporata. È un cappottino corto, abbastanza casual, però resta comunque un cappotto, quindi potete tranquillamente indossarlo come se fosse l'alternativa al vostro piumino, a cui siete affezionate. Ovviamente anche improntandoci verso marzo, febbraio-marzo, che non abbiamo più voglia di questi piumini pesantissimi. Poi vi faccio vedere un pantalone stupendo, questa è una taglia S e è bellissimo, qualche cosa non di parte, voi sapete che io sono molto colorata. Questa è un pantalone a sigaretta, corto alla caviglia, sta benissimo, sia con decoltè, che con stringate, se siete alte, che con stivaletti, se volete metterlo magari anche adesso, uno stivaletto, è veramente bellissimo. In questa primavera con una bella giacca, magari bianca, un blazer bianco, un blazer rosso, un blazer blu, anche con una camicia di jeans all'interno, ce lo vedo molto bene, una bella cinturina, una blusa bianca. Insomma è un pantalone meraviglioso, particolarissimo, allo stesso tempo molto semplice, vi ho trefatto così, ha vita molto alta ed è una taglia S, quindi io qua consiglio la taglia 40. Arriva praticamente abbastanza cortino perché vedete che è, anzi è proprio capri il modello, neanche ha la caviglia, molto più corto, lascia proprio la caviglia scoperta, quindi è veramente, secondo me, bellissimo. Il costo di questo pantalone è veramente microscopico, 13 euro, ma proprio è carino, e poi ha anche un bellissimo tessuto, ora io non so dirvi, però è un tessuto di quelli che non fanno i pelucchi, non so come spiegarvi. Un bel tessuto. Passiamo ad un chelto, questo ve lo faccio vedere, un po' siamo più sullo sportivo, siamo un po' più su ragazzi, però ve lo faccio vedere perché so che ho tanti clienti che hanno anche le figlie, diciamo, adolescenti, o comunque le figlie giovani, e quindi, insomma, per loro, per le ragazze, ma anche per una ragazza tipo me, insomma, 30 anni, anche 40, anche 50, chi se ne frega, anche 60. Io lo vedo più da ragazzina perché sono davvero abituata, mi ricordo a vederlo tantissimo sulle ragazzine, tipo mia sorella che lo portava quando aveva 12-13 anni. È un chelto viola, semplicissimo, in sponto ragazze, a 5 euro, ve lo butto fuori proprio a un prezzo microscopico, sapete che il chelto aveva un costo abbastanza alto, quanto costava? Più o meno a prezzo pieno, 60, una sessantina, quindi 5 euro ragazze, è sempre un gilet, io ve lo consiglio per le donne, insomma, non per le ragazzine che ci vanno in giro tranquillamente, non so se lo usano ancora, però adesso stanno tornando gli anni 90, eccetera, eccetera, quindi riproponiamo tutto quanto, magari per andare a fare una passeggiata, per andare a camminare, comunque ripara dal vento anche in primavera, so che non sono molto portata di farvi vedere queste cose, però ci sono anche loro, quindi io cerco di descrivervele al meglio possibile. Vi faccio vedere anche questo abito, ve l'ho mostrato solo in foto, questo è nuovo, è stata solo tolta l'etichetta perché l'avevo venduto la mia cliente che me l'ha riportato perché non l'ha mai utilizzato, quindi era una nuova collezione che avevo io, un abito meraviglioso, guardate la particolarità, qui sembra una giacca e poi ha tutta la parte così, tipo il fiocco, guardate, fa molto francese, fa molto charmant, è molto bello. Taglia unica, va bene fino alla 44 morbida, l'ho visto indossato, è abbastanza cortino, non è molto lungo, però con gli stivali secondo me sta molto bene, o anche con la calza coprente, la decoltè, lo stivaletto, l'anfibio, quello che volete voi. La particolarità sta bene anche con gli anfibi secondo me, la particolarità è il fatto che sia portafoglio, una bellissima forma, un bellissimo colore, poi a queste catene meravigliose dorate io ci abbinerei un orecchino tipo quello che indosso, così piccolino, molto discreto, veramente bellissimo. Le maniche sono leggermente in voile, con l'elastichino sul fondo, e questo qua ragazze, non mi ricordo che prezzo vi avevo detto, comunque è sulle 18 euro più o meno. Poi, 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 vediamo che cosa vi posso fare vedere. C'è un altro cappuccino qua, questo ve l'avevo già fatto vedere, adesso ho partito con lo sconto. Praticamente, 80% lana, taglia 44, cappotto grigio lungo, meraviglioso, arriva proprio alla caviglia, questo è un pezzo. Vintage, perché è wool and cashmere il brand, vintage, spettacolare, proprio bello, bello indossato, 42-44, elegante, taglio sofisticato. Io di questi cappotti ne ho parecchi e non me ne disperò mai nella vita, perché sono bellissimi quando li indossi. Non è come avere il cappottino di quelli che fanno adesso, cioè, sono cappotti ben fatti, insomma. Non senza parlare male di quelli che fanno adesso, che io amo follemente, però quando metto un cappotto vintage, noto la differenza della vestibilità di come sta addosso, di come ti senti nel mondo. Questo qui in sconto, ragazze, è da 35, oggi è scontato a 20 euro. E guardate che ho spiato anche stamattina i negozi, i miei colleghi dell'usato, i cappotti, 90 euro, scontati del 20%, scontati del 10, a 20 euro. Giuro, non trovate niente, ma potete cercare quanto volete, ma nei negozi boutique in Italia, ma anche all'estero, peggio ancora, non li trovate, questo ve lo dico, ma proprio ci metto io il timbro, con la firma. Passiamo poi a un altro tubino, anche questo mi piace tantissimo, un po' in stile Dolce Gabbana. Mi ricorda un po' la Dolce Gabbana, quando era un po' stile Sicily, Monica Bellucci, non so se avete presente, nei film tipo 007, vabbè, lei faceva la donna mediterranea fan fatal. Questi tubini qua sono, vabbè, sono praticamente meravigliosamente. È un gessato, viene soltanto 15 euro, ben strutturato sulla figura, più o meno qua siamo sulla taglia 44, secondo me è anche verso la 46, non l'ho misurato, però non so se c'è dentro la taglia. Sì, comunque siamo su una taglia ML, bellissimo. Questo, ragazze, lo mettete con un bel sandalo femminile e siete perfette, ci potete mettere sopra comunque un blazer che scivola con una cinturina in vita, oppure lasciarlo proprio così, madre natura. Bellissimo, spallino regolabile, è molto elegante perché è gessato ed è molto strutturato, quindi questo vi segna proprio bene tutta la parte del corsetto, eccetera, eccetera. Poi abbiamo questa magliettina, maglioncino, vestitino, io la chiamerei maglia perché è un po' trasparentina, quindi la metterei con i leggings, anche questa è in super sconto, da 11,50 euro io ve la butto a 6,90 euro, sto facendo prezzi folli, è carina perché è fatta bene, nel senso è glitterata, c'ha dei micro glitter neri e c'ha tutti i profili di raso, quindi non è una maglia di quelle scrause, insomma, fa la sua figura, taglia morbida, sml tranquillamente, maglia unica. Passiamo a un maglioncino, anche questo qua, super festivo, anche questo qua è un super sconto, qua siamo una taglia XL, circa una 50, guardate la meraviglia, non pensate che sia da sciurina, perché alla fine, secondo me, questi maglioni qua li posso mettere anche le ragazze più giovani, come mettiamo, io metto tranquillamente i maglioni vintage, anche delle mie amiche, delle mie clienti, metteteli perché non vi fa da vecchie, non sembrate vecchie, avete il viso giovane, sembrate quello che siete, quindi non è tanto il vestito che vi ringiovanisce, ma curate piuttosto la pelle, ma questo è una cosa che potevo fare a meno di dire, però anche io ho iniziato a curare la mia pelle, perché bisogna partire dal viso, poi ti puoi vestire vintage, tipo oggi sono vestita proprio anni 70, non è che sono vestita da ragazza giovane, ma che mi frega, la gioventù, la giovinezza, la si vede nel viso, e ogni cosa ha la sua età, ha il suo modo di vestire, questo secondo me è adatto a tutte le età, anche se sembra più da signora, insomma, però io ce lo vedrei bene anche con una ragazza, con un bel gistrappato, chi se ne frega, è un maglioncino nero con tutti gli strass, guardate che meraviglia, certo anche per una signora molto elegante, e questo qua ragazzo è scontato a 7 euro, ma è perfetto, in condizioni perfette, poi, vi faccio vedere anche questa magliettina in super sconto, anche questa diciamo è della Heaven & Hood, ve l'avevo già fatta vedere un XL, ma anche questa ve la butto in sconto, da 11 euro a 5 euro, meravigliosa, in cotone, nuova, ha la particolarità di avere questa parte qua trasparente con questo macramé, vedo non vedo, una maglia basic, un perfetto sottogiacca, la mettete con i jeans, la mettete con i pantaloni di alta, con le gonne a tubino, con quello che volete voi, bellissima, ed è un capo assolutamente da bere nel farmato, altro capo in super sconto! Ragazze, sono arrivati dei pantaloni vintage, che sono uno più bello dell'altro, ho dovuto provarli per farvi vedere la vestibilità, praticamente sono, questi sono proprio classici, guardate la trama, che meraviglia, tipo, è una specie di piccolo piedi pull, sono una taglia 46 vintage, io che sono un 42 morbido, con la vita non troppo stretta, mi vanno giustissimi, giusti giusti, consiglio un 42-44, se il 44 ha la vita tipo la mia, a 79 cm, o anche un pochino più stretta, sono perfetti, di fianco vedete che io ho ancora la margine di riempimento, ed è un pantalone bellissimo, il costo di questo ragazze è 12 euro, ha la zip col bottoncino, dopo vi faccio vedere bene anche l'etichetta dall'interno, e sono veramente a un prezzo ottimo, ve li faccio vedere, ecco poi vestita così, vabbè, comunque sono davvero carini, potete anche metterci una blusa sopra che li copre, io però li lascerei proprio così morbidi, veramente bellissimi, adesso vi faccio vedere anche l'etichetta dall'interno. Ragazze, ecco qua l'etichetta, allora, proprio super vintage, taglia 46, questo è il tessuto acetato e viscosa, è un ottimo tessuto che va bene sia adesso in inverno, che secondo me anche in primavera, aiuto, mi sto per uccidere, sono qua, non vi faccio vedere in che condizioni, comunque il pantalone è questo, è veramente bellissimo, quindi se siete una 42 morbida, potete tranquillamente sceglierlo, anche 42 non morbida, vi sta un pochino più agiato, c'è il bottoncino sul lato, è veramente 12 euro, prezzo in saldo, un pantalone meraviglioso, e anche questi vi giuro, 50-60 euro in giro li trovate, anche di più, perché sono anche materiali molto pregiati. Ragazze, vi faccio vedere anche questo pantalone, questo sono innamorata, allora, vi dico solo che è un super vintage, in pura lana vergine, in pura lana vergine, è bellissimo, è un verde militare molto leggero, guardate come sta bene, per esempio, anche con la mia blusa, ho fatto l'abbinamento, cioè, sembra fatto apposta, a parte le scarpe, mi piace davvero tantissimo, questo è una taglia 46, vintage, pura lana vergine, ma non è la lana che pensate voi, magari dice, oddio, lana pesante, è una lana finissima, cioè, è una coccola addosso, non pizzica, non dà nessun tipo di fastidio, la lana vergine, è una lana trattata apposta, quindi, è come la lana merinos, finissima, non danno assolutamente fastidio, sono bellissimi, guardate, hanno, tra l'altro, la... sono stati, forse, orlati qualcosina, quindi, volendo, uno li può anche riprendere e allungare un po', però, secondo me, più stanno alla caviglia, meglio è, perché li rende veramente super attuali, io spero che rendano, questi qua, ragazze, sono in sconto, pura lana vergine, perfetti, taglia, io consiglio una 42 anche qua, oppure 44, ripeto, con la vita stretta, un po' più della mia, 79 centimetri, speriamo di averne persi, magari un paio, comunque, l'ultima volta l'ho misurata, era così, non credo di averli persi, e hanno le taschine, vita super altissima, vedete, dietro anche, sono molto belli, spero che si veda, ok, sono scontati, ragazze, a 15,90 euro, ma questo è un affarone, perché li utilizzate anche in primavera, anche se sono in pura lana vergine, sono leggerissimi, un ottimo materiale, questo è un pantalone da lavoro, da tempo libero, da tutti i giorni, che veramente tenete nell'armadio tutta la vita, bellissimo, ecco ragazze, il pantalone verde in tutto il suo splendore, bellissimo, pura lana vergine, vi volevo far vedere il brand, super vintage, questi sono bellissimi, calcolate che è un prezzo da urlo, da urlo, da urlo, da urlo, adesso vi faccio vedere quelli che indosso adesso, che sono questi qua, allora, qua ci sto dentro per miracolo, perché è un 42 vintage, ma consiglio più, o un 42 con la vita un po' più stretta della mia, oppure un 40 che gli sta un po' più agiato, perché vedete che a me, per quanto li ami, il bottoncino, cioè fa un po' il difetto qua, infatti, se mi siedo, me li sento un po' strettini, questi sono pura lana vergine, benetone vintage, pantalone beige, anche questo, con questa brusa l'ho messa apposta per farvi vedere, tutti i vari pantaloni che erano arrivati, sono strepitosi, veramente bellissimi, bellissimi, beige, anche questi sono di un materiale, appunto, pura lana vergine, che voi mettete tranquillamente, anche verso la primavera, certo no, quando ci sono 30 gradi di fuori, però in questo periodo, e anche un po' più avanti, li metterete tranquillamente, e si possono abbinare con tantissime tipologie di outfit, perché sono colori neutri che vanno con tutto, guardate come sta bene con questa, che neanche a farlo apposta, è tipo un po' a stile vintage, così, con questo color bruciato, avete la camicia azzurra, avete le camicie, blazer, maglioncini, pullover, sta bene con tutto, sta bene col principe di Galles, sono stupendi, e questi sta bene se qui i tacchi, anche con delle stringate, se siete, ripeto, un po' più slanciate di me, cosa sicuro, oppure se vi piacciono comunque le stringate, perché vedete, se io mi tolgo le scarpe, comunque non stanno male neanche con la scarpa bassa, calcolate che io sono un anetto, quindi anche tutti gli altri cadono giù abbastanza bene, quindi più sono cortini, meglio è, si possono mettere anche con delle stringate, sono bellissimi anche questi, e costano anche questi pochissimo, perché costano 15 euro, ma sono uno più bello dell'altro, adesso ve li faccio vedere nel dettaglio, ragazze, ecco i pantaloni nel dettaglio, bellissimi, sono di Benetton, pura lana vergine, c'è scritto proprio, qualità assoluta, qui segnano che è una 42, ma come vi dicevo appunto una 42 vintage, bellissimo, cioè non andate a comprare quelli scrausi a magari 25-30 euro, anche scontati, cioè qui con 15 euro avete un pantalone di una qualità eccelsa, parola di baule.